Il sindaco di Pesero Matteo Ricci ha consegnato l'encomio a Gabriele Ottaviani, il quarantenne che il 22 aprile scorso in strada a San Nicola soccorse e salvò la vita a una 27enne e a sua figlia di 5 anni, aggredite nel giorno di Pasquetta dall'ex compagno di lei con la scusa di accompagnarle a vedere i cavalli in un maneggio. L'uomo ferì di striscio l'ex compagna con un coltello ma lei reagì e riuscì a scappare con la bimba. A quel punto intervenne Ottaviani, residente in zona, che portò entrambe a casa sua. L'aggressore tentò di investirli con l'auto e poi minacciò di darsi fuoco prima di essere arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L'uomo è tuttora in carcere. Ha salvato una giovane donna dall'ennesimo femminicidio, ha commentato il primo cittadino. Non c'è nessun tipo di motivazione che possa permettere la violenza sulle donne. Gabriele, ha proseguito Ricci, non si è voltato dall'altra parte, non ha avuto il minimo dubbio su cosa dovesse fare. È un esempio per tutti. Nella Sala Rossa, insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine, era presente anche il prefetto Vittorio Lapolla. Un autentico atto di coraggio, ha detto. Da oggi Gabriele entra a far parte degli uomini illustri del nostro territorio. Sono onorato di aver ricevuto questo encomio oggi e soprattutto sono felice di essere intervenuto quel giorno perché nel dramma di quello che stava succedendo, da quel giorno in poi, dal mio punto di vista, sono scaturite tante cose belle. Ho conosciuto la famiglia di Elisa e Chiara, che sono delle persone fantastiche, quindi sono contento di essere entrato parte della loro famiglia, di essere risultato così importante per loro, a cui auguro di avere un futuro sereno e felice. E adesso, ecco, niente, sono emozionato e contento per quello che ho ricevuto oggi.